Gentili telespettatori, buona giornata. La maggioranza traballa, potrebbe anche cadere magari. Il fatto è che la pensione, i parlamentari la raggiungono il 22 settembre, 4 anni, 6 mesi e un giorno hanno diritto alla pensione, che verrà pagata poi al raggiungimento dei 65 anni. C'è il taglio dei parlamentari, partiti che hanno perso voti. Far cadere il governo adesso per i parlamentari sarebbe come licenziarsi da soli, per questo che è improbabile ma non impossibile, perché ai capi politici non interessa questo, loro il posto ce l'hanno assicurato nella prossima legislatura, loro sono gli unici che matematicamente l'hanno il posto. Draghi tira dritto su Nato e invidi aiuti e Conte minaccia la crisi, per questo che la maggioranza traballa. Conte il triste raccattavoti è l'autoproclamato avvocato del popolo che è a capo di un partito che a lui non frega niente, lui non è un grillino, non lo è mai stato, anzi ha sempre visto i grillini un po' come politici per caso, senza curriculum, senza né arte né parte, ma c'era solo quell'offerta di lavoro lì, prendero a lasciarlo, diceva beh, questa è l'unica cosa che posso fare, farò il capo dei 5 Stelle, ma a lui non gliene frega niente, niente. Ha fatto fare un sondaggio riservato perché lui pensava di avere più del 13% che danno i sondaggi, invece ha scoperto di avere il 10,2%, un partito verso la scomparsa, retto solo dal voto di scambio del reddito di cittadinanza. Beh, il Premier Draghi sottolinea la portata storica del momento che stiamo vivendo, parla della richiesta di Finlandia e Svezia di aderire alla Nato, una chiara risposta a quello che succede, e poi anche per la sicurezza collettiva. Draghi dice che l'Italia appoggia con convinzione la decisione di Helsinki e Stoccolma, vogliamo velocizzare le procedure interne per rendere l'adesione effettiva nel più breve tempo possibile e intendiamo sostenere la Finlandia e la Svezia in questo periodo di transizione. Cosa vuol dire? Che si impegna il governo italiano, l'avevo già scritto ieri, a difendere da oggi fino all'effettiva adesione Finlandia e Svezia. Le parole sono chiare, intendiamo sostenere questi paesi in questo periodo di transizione, non certo a parole. Quindi la politica del governo è assolutamente chiara. Poi lo sgambetto con l'elezione di Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, come presidente della Commissione Esteri, battendo, grazie ai voti del centrodestra unito con Fratelli d'Italia, il 5 Stelle Ettore Liccheri, scelto dal movimento quale successore di Vito Petrocelli. E qua, Giorgia Meloni si è dimostrata leale anche a chi non lo è stato. Giorgia Meloni vota con il centrodestra e fa eleggere Stefania Craxi. Avrebbe potuto fare come Salvini e Meloni, votare contro, astenersi, non far andare i politici alle votazioni. Però Giorgia Meloni non scende al livello di Salvini e Berlusconi. Non è una spanna superiore, è diversi chilometri superiore a questi due politici che messi insieme non fanno neanche l'un per cento di Giorgia Meloni come politico. Quindi Giorgia Meloni si è comportata da davvero politico, ha sostenuto la sua area ideologica e ha aiutato l'elezione di Stefania Craxi. E così Conte si è imbufalito. Dice una maggioranza che spazia da Fratelli d'Italia fino a Italia Viva perché gli hanno portato via la poltrona, a poltronari. I 5 Stelle sono i più grandi poltronari della storia della Repubblica Italiana. Quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno sono diventati la casta per eccellenza. Loro sono la casta, scritto maiuscolo. E quando gli si tocca mezza poltrona non capiscono più niente. Potere e soldi sono assolutamente a sue fatti da questo. E la cosa incredibile è che dopo che arriva Stefania Craxi, nella ex poltrona dei 5 Stelle, i 5 Stelle si imbufaliscono e dicono che questa gente, questi partiti pensano solo alle poltrone. Mi viene in mente un detto che non me lo ricordo bene. I poltronari che danno dei poltronari agli altri. Fantastico. Questo è l'apice del punto più basso, l'apice negativo della politica italiana. Il poltronaro che vede gli altri poltronari. È così. È come l'invidioso che vede gli altri invidiosi. Il poltronaro vede gli altri poltronari. Fantastico. E così Conte chiama in causa direttamente Draghi. Sta a Draghi la responsabilità di tenere in maggioranza. Tuona e chiede il voto in Parlamento in vista delle prossime mosse dell'Italia nello scacchiere internazionale. Lui Conte che quando governava non chiedeva mai al Parlamento. Andava avanti con decreti legge. Andava in Europa senza mandato. E oggi lo stesso personaggio chiede a Draghi di andare in Parlamento a dichiarare qualcosa che non è necessario dichiarare o mettere ai voti. Ma Draghi conferma la sua linea senza particolari timori. Vogliamo aiutare l'Ucraina a difendersi. Lo abbiamo fatto in passato e lo faremo quando necessario. E in questo in Europa siamo tutti uniti, tutti insieme. Siamo membri leali dell'Unione. Una decisa stoccata a chi si comporta in questo modo per motivi elettorali. Ricordiamoci che Conte è stato quello che ha promesso all'Europa e alla Nato l'aumento delle spese per la difesa e poi le ha aumentate. È stato il Presidente del Consiglio che negli ultimi decenni ha speso di più per la difesa dell'Italia. E adesso dice l'opposto? È chiaro che è tutto fatto per tirar su quel 10,2% di voti e tirarlo un po' più su. Ma non ce la fa perché questo modo di raccattare i voti, di seguire l'elettorato, non funziona. Il grande leader prende delle decisioni senza guardare i sondaggi. Gli italiani cosa pensano su questo argomento? Allora dico quello che pensano gli italiani, così prendo voti, ma non funziona. O perlomeno può funzionare raccattando qualche decimale, però ti delegittimi completamente perdi ogni tipo di credibilità perché fare il banderuola non funziona. Grazie a tutti e arrivederci.